Oggi sono su Torrente Leno, quello che si vede è il mello a faiolo e lì sotto la cascata c'è il nido. Arriva l'insetto nel becco da portare nel nido. Adesso sta pescando, metto la testa sott'acqua, poi vola sott'acqua per cercare molluschi, insetti acquatici, piccoli porsiolini. Siamo su Torrente Leno, della città di Rovereto. Ed eccolo qua, è entrato nella cascata dove sta costruendo il nido. Sono sbagliato, prima non erano insetti nel becco, erano foglie per il nido. Sta costruendo il nido adesso. Probabile sia la femmina. Questo è il posto sotto la cascata qua, dove sta costruendo il nido, la coppia di Merli Acquaiolo. Si è appostato qua sul sasso ed è entrato sotto la cascata qua, con le foglie nel becco per costruire il nido. Non è finito. ed eccolo qua uno è entrato la femmina sotto la cascata a portare la foglia e questo è il maschio sta aspettando la femmina che esca penso che fra pochi giorni avranno finito il nido e la femmina inizierà la cova ed eccolo qua sta cercando foglie alghe piccoli rametti di cescuglio per portare a costruire il nido adesso sta pescando lo vediamo sul fondale e Grazie a tutti. Sta arrivando un'anatremuta. Grazie a tutti.